Buon pomeriggio e bentornati in redazione. Un professore del liceo Vivona di Roma nel quartiere Eur questa mattina è stato soccorso in gravi condizioni nel cortile della scuola dopo essere precipitato da una finestra. L'uomo è stato trasportato in ospedale ed avrebbe riportato delle gravi fratture ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Resta da accertare la dinamica dell'accaduto anche se al momento non si esclude nessuna ipotesi. Per saperne di più vi aspetto sul sito www.lanotline.it, vi ricordo la mail dove potete scrivere, commentare e segnalare argomenti di vostro interesse da trattare insieme, redazione.lanotichiacciolagimil.com mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube, io vi aspetto domani con il nostro consueto appuntamento. Buona serata!